Io dico che è una stagione veramente molto molto difficile per tutti, sotto tutti i punti di vista, questi ragazzi non hanno riposato, i tanti miei dopo cinque giorni sono stati chiamati in nazionale e quindi bisognerà far di necessità virtù, far fronte anche agli infortuni perché ci saranno infortuni e da sovraccarico fisico e psicofisico. Però, ripeto, al tempo stesso dobbiamo essere bravi ad affrontare questo tipo di situazione nel miglior dei modi.